Ciao a tutti, vi so che sono qui con Penny Se vuoi se i cani hanno le pulci utilizzate l'olio essenziale di menta piperita che è un olio naturale che non dà fastidio al cane ne mettete qualche goccina nel pelo e andate a massaggiare in questo modo le pulci con questo odore di olio di menta piperita se ne andranno amo il buongiorno bravissima e noi ci vediamo nel prossimo video iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e segui la mia vita e quella di Penny anche su Facebook e su Instagram trovi i link qui sotto in descrizione ciao